tu hai accennato degli altri aspetti che incontriamo nella che sono la sincronicità che sono l'interconnessione e i sei come ci dice jung nei suoi vari trattati uno dei degli aspetti della fenomenologia del transpersonale che anche un mistero in una certa parte una certa parte se entriamo nei discorsi della fisica moderna ricomprendiamo di più ma comunque permane un mistero questo la sincronicità e l'interconnessione e questa sincronicità interconnessione ci succede ancora una volta quando facciamo la cosa giusta c'è sempre una parte che dobbiamo mettere noi come il travaglio che faccio ma messi come scrivo ma di nuovo è mandraga quando faccio i miei passi come quella famosa frase attribuita a goethe che non è di goethe quando mi muovo poi mondo collabora e tutto va nella direzione questo succede e il mondo transpersonale per esempio lo potrebbe chiamare c'è uno sciamano potrebbe chiamarlo gli spiriti alleati uno mistico un po più cristiano tra gli angeli non angelo discende l'angelo del signore che discende ti abbiamo anche la possibilità di comprendere questa nomenclatura questa narrazione mitologica delle varie tradizioni religiose chi è l'angelo che ti prende quando tutti getti nel vuoto o lo spirito che discende è comprensibilissimo non è è chiaro che se la legge un'ottica mitologica hanno quello spirito li è quello li è solo di quattro edizioni li perché ma lo spirito che discende e ti guida la sincronicità interconnessione quindi c'è questa mediazione culturale di linguaggi per questo mi piace dare mantenere questa connotazione sciamanica alla biotrans energetica e anche usare i linguaggi diversi perché quello che noi possiamo la dimensione sovra razionale è trans culturale oltre che trans personale per cui è in grado e anche trans non so livelli no possiamo cogliere come la religione parli di certi aspetti è uno sguardo integrale transpersonale coglie cosa qual è il significato più profondo meta di questa dimensione per cui può tranquillamente fare di spirito di angeli senza scandalizzarsi o senza essere dogmatico credendo che siano davvero angeli grazie